eccomi qua sono tornato partiamo da olympic lione olympic marsiglia 81 valutazione con 86 di intesa confermiamo che ci da un pacchetto giocatori misti rari perché che non sono granché però proviamoci tra l'altro ci sono ancora in mutaforma domani ci saranno partiranno i puttis un ufficiale futtis ci saranno solo oggi solo giocatori tramite sbc e tramite gli obiettivi sul mercato non ci saranno non ci saranno giocatori da trovare nei pacchetti quindi solo tramite sbc atalanta lassio che ci da un giocatore un pacchetto giocatori misti prime da come potete vedere qui c'era l'obbligo di mettere massimo quattro giocatori del di un campionato ho messo quattro giocatori della serie a 123 giopetro quattro quindi è portato per una quasi full full brasile confermiamo ok passiamo adesso a valencia via real tempo che carica valencia via real qui invece ho portato per una full full liga santander qualcosa ci da un pacchetto da 15 mila crediti inutile accetto più inutile della storia però chissà chissà sparta rotterdam contro fire nord a qui qui cavolo ci ho messo sono messo in giocatore doppione ci ho messo e oddio quant'era l'intesa per me nero un bronzino era fatemi fare così non ho niente eh mi ricordo era 75 di eh non mi ci ricordo proprio fatemi fare così dai ok ci abbiamo fatta eh pacchetto zinco premium giocatori zinco premium e come pack finale vediamo un po' che non ho visto prima con il principale della stagione completati pacchetti giocatori rari beh pack da 50 mila anche se quest'anno i pack da 50 mila hanno fatto veramente schifo quindi sappiamo che non troveremo nulla poi se mi da un fuoco di un fuoco stavo dicendo se mi da una muta forma beh partiamo dal misty prime dai ok ok nulla di che brasile dici chi ha così 85 beh not bad not bad buono buono 82 saul vabbè fatemi liberarmi una lista visto che ho visto che c'aveva anche giopetro qui nella lista trasferimenti eh vi dico già che probabilmente non farò giocatori footies per via che per via che ho finito i giocatori il walk out non mi è rimasto più non mi è rimasto più nulla sieno mi sono rimasti 3 4 giocatori quindi eh non posso fare più nulla quindi eh penso che mi capite eh che poi sul canale usciranno altri video usciranno video dei draft quindi usciranno tanti bei video apriamo questo misty rari ci apriamo? no prima sto zingo premium dai zingo premium con 3 giocatori rari nulla vabbè ecco perché ho voluto aprire prima questo tra l'altro un messicano ci ha dato doppione ok lista già piena quindi vedete è proprio incredibile questo gioco ehm cosa vogliamo aprire ma apriamoci questo dai pack da 15.000 crediti ok Mertens 74 si eh che Mertens vabbè ormai è svincolato dal Napoli perché Napoli non ha trovato l'intesa per quanto riguarda le cifre le cifre sul contratto lui si dice che abbia rifiutato eh ma addirittura Kulibali se ne va ma io lo posso capire che Kulibali se ne vada perché ormai quello ha detto beh se ne è andato in signa se ne è andato Mertens ma qua se prima facevamo cagare mo qua che cosa che cosa che cosa ci faccio qui io cioè se ne sono andati quelli se ne è andato pure Spina cioè eh quello giustamente mica è festo dice ma se non vincevamo prima figuriamoci adesso se prima ci qualifichiamo alla Champions League mo qua non ci qualifichiamo manco per l'Europa League ma giustamente quello si è fatto due conti in tasca mica mica è stupido quello non male che quello se ne va accesi Argentina S Ocampos proprio lui 83 Ocampos non male si è fatto due conti in tasca quel poi guadagnerebbe anche di più perché le Laurenti si è molto molto tirchio quindi scartiamo questi anche se questi qua eh beh sì ci perdo qualcosa perché cavolo eh cavolo attenzione che con questo ci perdo eh scartiamo qualcuno dai questo fondo cioè chi era questo eh no eh cavolo questo qua cosa posso capire quello guarda così c'è anche questo eh vaga Manolas scarto mi posso mai scartare Manolas fatemi un po' controllare ah ah eccolo qua eccolo qua via dai e poi dopo me li vado a vendere sempre se mi ricordo quel problema ok ultimo pacchetto da 50.000 crediti giocatori rari compreso uno con valutazione 83 più garantito ma noi sappiamo già cosa conterrà uno tra 83 e 84 invece no walk out vabbè classico muller 80 ah beh 86 87 pensavo fosse 86 vabbè classico walk out 86 beh devo dire questi incontri principali non è che sono non posso dire che sono scudate però comunque qualcosa abbiamo trovato perché ormai scudate non si possono più chiamare perché ormai costano 10.000 crediti 15.000 crediti al giocatore quindi sono soddisfatto comunque perché mmm buono oh ottimo pacchetto c'è walk out 2 1 85 1 84 questo quanto costa? beh vedi intorno ai 15.000 16.000 costa muller beh non mi posso lamentare questo qua me lo tengo qui in sospeso ragazzi non mi posso lamentare questa settimana perché tra l'altro questi qua sono gli incontri principali della scorsa settimana che sto registrando oggi che giovedì dovrebbe essere 14 luglio che poi stasera escono i nuovi non ho avuto proprio tempo di registrarli eh l'ho registrati solo adesso e infatti escono alle 14 di oggi di questa giornata che poi stasera escono escono quelli nuovi che vi portano sicuramente settimana prossima va bene poi in questi giorni usciranno video di draft video di giocatori uscirà anche un grande giocatore che non vi aspettate quindi un giocatore in muta forma si tratta va beh ragazzi dai poi vedrete tutto sul canale va beh ragazzi il video termina qui mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti date un'occhiata a tutti in link in descrizione ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao